più o meno elegante scrivo parole che si rincorrono in maniera più o meno elegante do notizie spirituali che non interessano la grande maggioranza della gente vivo una vita avventata che non mi spiego minchino all'arte del prete che assolve subito se gli fai parte perché commento perché scrivi per quei pochi che ti dicono grazie per la speranza che mi date